Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org In occasione del bicentenario della nascita di Darwin e a 150 anni dalla prima pubblicazione dell'origine della specie, alcuni autorevoli studiosi di diverse appartenenze culturali e disciplinari si sono confrontati presso il CNR sulla fortuna delle teorie darwiniane, non limitandosi ad una generica celebrazione, bensì mettendone in luce gli aspetti critici. E dai loro contributi è nato il libro Evoluzionismo, il tramonto di un'ipotesi, a cura di Roberto De Mattei, già vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'istituzione che ha promosso il convegno e la pubblicazione degli atti. Tra i numerosi autori del volume comparino il francese Guy Bertol, paleontologo, membro dell'Associazione Internazionale dei Sedimentologi, Jean de Poncharat, fisico, ricercatore in nanoelettronica dell'Università di Grenoble, Marcier Gretic, genetista, membro dell'Associazione Polacca delle Scienze, Josef Ulz, fisico, ricercatore di geofisica all'Università dell'Australia Occidentale, e Hugh Miller, chimico, che ha preso dottorato all'Ohio State University in Columbus, in America. Da queste pagine l'evoluzionismo emerge come una teoria scientifica e filosofica, due aspetti che si sostengono a vicenda, incapace però di rispondere ad alcune questioni basilari riguardanti l'origine della vita e il mistero dell'esistenza umana. Secondo gli autori del volume, inoltre, l'evoluzionismo appare come una cosmogonia che pretende di descrivere la storia del mondo partendo da postulati scientifici inverificabili. Una dottrina spesso imposta come un dogma, che invece dovrebbe essere sottoposta al rigoroso vaglio della critica nazionale e scientifica, attraverso un libero confronto tra gli studiosi. Se le varie relazioni sono di carattere estretamente scientifico e possono apparire pesanti, l'introduzione spiega esattamente come la questione non sia semplicemente un tema da scienziati, lontano dalla quotidianità, ma come abbia importanti conseguenze di tipo religioso. Nato come un movimento di rifiuto della creazione, spiega il professor Roberto De Mattei, l'evoluzionismo è un insieme composto da un'ipotesi scientifica, più propriamente definibile come teoria dell'evoluzione, e da un sistema filosofico, che possiamo definire evoluzionismo in senso stretto. Teoria scientifica e teoria filosofica hanno bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere. L'ipotesi scientifica, che non è mai stata dimostrata, si nutre del sistema filosofico. La tesi filosofica, per giustificarsi, si fonda a sua volta sulla presunta teoria scientifica, e tra gli evoluzionisti non manca che ammette il fallimento della teoria scientifica. Il problema è che invece, in campo antievoluzionista, e più precisamente in campo cattolico, non manca che rifiuta l'evoluzionismo filosofico, ma accetta sul pago scientifico la teoria dell'evoluzione. Si tratta, spiega il professor De Mattei, di un giro mentale analogo a quello di alcuni cattolici che fino al crollo del comunismo rifiutavano l'ateismo marxista, ma ne accettavano all'analisi socio-economica, giudicandola scientifica. Tali posizioni, ieri e oggi, nascono da un complesso di inferiorità nei confronti della cultura laica, caratteristico di chi non si sente sicuro delle proprie idee cattoliche. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. www.radioromalibera.org.